Siamo giusti con l'orario, no? Perfetto. Tanto grazie di essere qui anche oggi, numerosi. Qua si vede dai microfoni, quindi si capisce oltre che dai microfoni anche dalla vostra presenza. Insomma, grazie. Partirei subito col bollettino, poi alcune informazioni da parte mia, da parte dell'assessore, e poi si chiude. Tamponi molecolari 6.235.001. Tamponi rapidi 6.224.476. Sono ormai praticamente 12 milioni e mezzo di tamponi. Il numero dei positivi dal 21 febbraio 2020, che è il primo giorno con il primo positivo che è il signor Trevisan, vi ricordo di voi, sono 448.229. Questi non sono tutti positivi, sono quelli che noi abbiamo intercettato con i test. I positivi di oggi sono 12.664. Sono un po' calati rispetto ai 13.000 che avevamo. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 505 positivi. Eccoli qua. I 505 positivi sono stati rilevati con 36.903 tamponi. e quindi per un'incidenza dell'1,37%. Il totale di ricoverati in questo momento in Veneto è 272.00 più 7.00. Come vedete da più giorni, insomma, questo numero è sempre positivo, no? 3, 4, 5, 7, come è oggi. E considerate che queste ultime 24 ore sono di domenica. Quindi vuol dire che adesso vedremo cosa accadrà nelle prossime 24 ore. Dei 272, 224 sono in area non critica, più 3. e 48 in area di terapia intensiva. Questo, diciamo, è il bollettino del lunedì mattina. E i 48 di terapia intensiva si sommano ai 353 delle intensive non-Covid. Quindi considerate che siamo ormai praticamente a 401, se non ho fatto male il calcolo, 401 persone in terapia intensiva, che non sono poche, eh? In Veneto, 401 è già un bel numero. Totale dei decessi 11.063, più 3. Totale dei dimessi 22.711. Riprendo questo concetto, perché vedo che è un concetto che ancora non è passato a leggere i commenti e anche l'opera dei grandi diffusori sulle cure domiciliari. 22.711 curati in ospedale, 448.000 positivi. Cosa vuol dire? Che 448.000 meno 22.000 fa 426.000, più o meno, anzi, circa 425.000 curati a casa. Ovvio che è strategica la cura domiciliare. Prima si fa, meglio è. Se qualcuno volesse vedere, diciamo, le linee guida della Regione Veneto, scritte in tempi non sospetti, non hanno la vigile attesa, prevedono l'utilizzo dell'idrossiclorochina, che peraltro, devo anche dire, nonostante si siano esaltate altre realtà regionali, voglio ricordare che da noi l'idrossiclorochina, secondo le linee guida, il medico la può prescrivere con la firma del consenso informato, quando in altre ragioni, esaltate per virtuosità, l'idrossiclorochina si somministra con il previo elettrocardiogramma e visita cardiologica. Ma non siamo qui a dirvi questo, siamo qui a dire che comunque tutti i medici, in scienza e coscienza, poi decidono come trattare, con che farmaci trattare, i loro pazienti. Non può passare l'idea che sono i politici che decidono come curare i pazienti, perché fa sorridere questa roba qua. E non la si può neanche andare a dire ai cittadini. E non si può neanche imporre con un'azione politica l'uso di alcuni farmaci da parte della politica sui medici. Questo va ricordato, lo dico perché sennò informiamo male i cittadini. Quindi il medico, rispetto al panel di farmaci autorizzati, può decidere come mixarli questi farmaci. C'è chi utilizza il cortisone appena colla al naso e c'è il primo sintomo, c'è chi dice che lo uso non prima di 4 o 5 giorni perché sennò mi dà l'immunodepressione, c'è chi dice che l'antibiotico lo do come copertura perché è fondamentale per l'eventuale creazione della polmonite, altri dicono che è un virus per cui l'antibiotico non serve in quella fase. Guardate, i discorsi li abbiamo sentiti tutti. Però da qui a trasformare questo come un'attività che è gestita dall'amministrazione, decisamente no. Soprattutto i cittadini c'è da dire che se hanno sintomi possono sollecitare il loro medico rispetto a una cura più veloce, più rapida nelle prime giornate, se ritengono, si confronteranno col proprio medico. Ecco, voglio dire una cosa, che il monoclonale per noi è strategico. E l'accesso ai monoclonali, vi ricordo che in Veneto, è diretto, rapido, senza alcuna, diciamo, comorbidità, per tutti i cittadini che hanno più di 65 anni. Cioè la norma dice che tutti i cittadini che hanno più di 65 anni possono essere sottoposti alla somministrazione monoclonale. Per gli altri, in via generale, per l'altra fascia d'età, cioè gli under 65, solo in caso di alcuni fattori, che sono il diabete, l'obesità o altri fattori. Però è pur vero che noi siamo in un contesto di studio randomizzato, per cui anche un cittadino sotto i 65 anni che non ha, diciamo, queste caratteristiche, che so che è un obeso, che è un diabetico, lo si può trattare. Ovviamente anche qui capisco che il cittadino non può fare medico di se stesso, però il confronto con il proprio medico di base, perché ricordo che il monoclonale ha efficacia, fra l'altro direi al 100%, se il paziente viene trattato nelle prime ore, nei primi giorni. Cioè se ci vai quando c'è già la bronchite non serve a nulla monoclonale, perché non sono altro che anticorpi che noi iniettiamo. Detto questo vi voglio dare un punto nave sull'infezione. Guardate, vi ho portato, lunedì ci sarà la conferenza stampa e ci sarà il dottor Rosi, perché parleremo proprio di questo, ma vi do un anticipo. Alla vostra sinistra la curva parte, la curva rossa parte, ed è il picco del primo di giugno. Le terapie intensive è il primo di giugno. Poi vedete, sono calate le terapie intensive, la vedete qui. Primo giugno vanno giù e poi tornano su. Oggi qual è la notizia? Che siamo sopra il primo giugno. Cioè vedete che questo andamento a V della curva, la vedete no? Giù, su, ci dice che comunque l'infezione è in corso. Ma ci dice anche un altro dato importante, che è quello di sapere che i parametri ad oggi del Veneto sono da zona bianca. Voi sapete che la classificazione nazionale ci dà da 18 regioni a rischio basso, moderato, scusatemi, e tre regioni, cioè Veneto, Lombardia e Lazio, a rischio basso. I nostri parametri esattamente sono questi. R con T 0,98. Incidenza, cioè numero di casi positivi a settimana su 100.000 abitanti, sono 80 casi su 100.000. Coefficiente di riempimento delle terapie intensive a 4%. Area non critica, coefficiente di riempimento 3%. Ma allora cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che noi questa infezione, che ha un andamento particolare, ci abbiamo 5, 600, 700 positivi al giorno, non ospedalizza come ha ospedalizzato in passato. Se voi pensate che con 700 positivi al giorno in passato ospedalizzavamo molto di più e non avremmo avuto il 3% di tasso di occupazione nell'area non critica. Quindi è sicuramente un'ospedalizzazione bassa come previsto. Vi ricordate la battaglia che abbiamo fatto a giugno chiedendo di modificare i famosi parametri? Se noi oggi avessimo i parametri, diciamo quelli di giugno, noi sicuramente saremmo in zona gialla sicuro, se non anche in arancione, magari un paio di settimane fa saremmo finiti anche nella zona arancione. Perché accade questo? Ma è semplice il motivo. Perché lo vediamo da due dati. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. Quindi che noi, come accade nella letteratura scientifica internazionale, consideriamo ancora non vaccinati. Nell'area non critica, il 78,5% delle persone ricoverate non è vaccinata. In particolar modo l'11% hanno una sola dose. Io ho sommato 67,5% più 11%. Quindi sottraete, non è l'11% del 78% ma sottraete l'11% del 78%. I nuovi casi nella settimana dal 12 al 18 di agosto sono stati 1.068. Nuovi casi. Il 26% sono vaccinati, quindi un quarto sono vaccinati, e il 74% sono non vaccinati. Quindi si capisce chiaramente che questa infezione ha questo andamento perché, come vedete, i presi in carico in ospedale vaccinati sono di gran lunga inferiori a quelli non vaccinati. Come dico sempre, se noi oggi prendessimo i 48 ricoverati in terapia intensiva e sapendo che l'80% sono non vaccinati 8, 16, 24, 32 e 8 per 8, 64 sono praticamente 39 persone su 48 che potrebbero non essere dentro in terapia intensiva se si fossero vaccinate. La vaccinazione in Veneto oggi ci dà questi dati, ve li dico oggi che magari può essere interessante all'inizio settimana over 80-99% vaccinati questo è un dato che ormai è confermato 99% ovviamente diciamo che sugli over 80% sono tutti con la seconda dose ho visto i grafici stamattina penso che sono limitatissimi i casi dell'attesa 70-79 anni 92% di vaccinati i 60-69 anni l'87% vi ricordo che qui all'inizio c'era qualcuno che aveva l'incertezza di dire ma non si vaccineranno perché erano partiti in piano oggi dei 60-69 anni 87% si è vaccinato con due dosi o già una prima dose 50-59 stiamo arrivando all'80% siamo al 79% quindi 8 su 10 cinquantenni si sono vaccinati 40-49 71% 7 su 10 si sono vaccinati 30-39 66% e poi c'è sto dato simpatico i 20-29 superano i 40-49 72% cioè i 20-29 anni sono quelli che hanno spinto di più considerate che hanno è da meno tempo che sono oggetto di vaccinazione sono arrivati almeno con un paio di mesi in ritardo rispetto ai 40-49 i 12-19 sono già il 56% vuol dire che un ragazzo in età scolastica su due è vaccinato in Veneto lo dico perché sembra quasi che i ragazzi non si siano vaccinati non è vero probabilmente fa più rumore una foglia che cade una foresta che cresce ma il totale dei Veneti che oggi si sono vaccinati è il 77,6% insomma vi ho riempito un po' di dati ma per dare un spaccato di una regione di una regione che ha scelto la vaccinazione si vaccina noi non siamo chiamati a decidere che è bene vaccinarsi o è bene non vaccinarsi siamo chiamati a dare un servizio ai Veneti poi ognuno decide di fare come vuole ovviamente qui c'è una tutela della propria salute ce n'è una anche di difesa della comunità vi ricordo che a tutt'oggi i ragazzi dai 12 ai 25 anni e tutti i cittadini che hanno più di 60 anni quindi i ragazzi dai 12 ai 25 abbiamo preso l'età scolastica prevedendo anche l'università e tutti i cittadini con più di 60 anni possono accedere direttamente in qualsiasi centro vaccinale senza prenotazione vaccini ne abbiamo abbiamo un milione almeno un milione di dosi a disposizione saranno i vaccini sono Pfizer e Moderna quelli che somministriamo per cui l'invito a chi avesse deciso di vaccinarsi di farlo tempestivamente perché poi arriverà come vi ho detto ancora settimane fa arriveranno i mesi autunnali e poi ci sarà la corsa alla vaccinazione dell'ultimo minuto perché poi arriva il freddo vi ricordo che per avere la copertura anticorpale nel momento in cui oggi uno si facesse la prima dose diciamo che verosimilmente se facesse un Pfizer che va a 21 giorni ci mette un mese e mezzo prima di essere coperto quindi non fate ragionamento mi vaccino il primo di ottobre così il due posso gli anticorpi perché chi si vaccina il primo di ottobre arriva a metà novembre abbiamo ravvicinato i richiami per Pfizer a 21 giorni in tutti i centri vaccinali e per Moderna a 28 giorni in generale la nostra preoccupazione è quella di performare bene con le vaccinazioni di cercare di essere assolutamente pronti per quello che sarà il D-Day come si direbbero gli inglesi cioè il giorno del vedo insomma la giornata storica che sarà l'apertura delle scuole perché è innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole perché saranno assembramenti naturali saranno trasporti saranno ragazzi che resteranno in classe per ore e dobbiamo fare in modo che la scuola non torni in DAD quindi noi ci stiamo battendo ci stiamo organizzando in settimana vi presenteremo un piano per la scuola che posso dire a me ha fatto piacere che il commissario che il commissario Figliuolo mi abbia chiamato per avere le carte dal Veneto per il nostro progetto della scuola Sentinella e abbiamo girato anche al commissario tutti i nostri dati degli studi fatti sui tamponi salivari l'ottor Rassu con tutte le microbiologie del Veneto ha testato i salivari molecolari vi ricordo che i salivari molecolari peraltro nascono all'Università di Padova il professor Plebani che ne fece il primo studio e che ne ha fatto lo studio insomma l'ho sentito anche stamattina ci siamo messaggiati quindi le nostre sono stati colti tutti questi aspetti noi vi informiamo già che abbiamo già avviato una gara a consumo cosa vuol dire? vuol dire che se poi arrivano i tamponi a livello nazionale perché decidono di fare tutti quei tamponi salivari diremo che il consumo per noi è zero nel senso che se li facciamo regalare come li daranno tutti però in via prudenziale come si fa sempre in Veneto intanto abbiamo fatto bandire una gara da azienda zero dicendo un milione di tamponi salivari ci servono dopodiché se ne avrò effettivamente bisogno a lotti te li chiederò se no finisce lì abbiamo bloccato il prezzo e sapendo che ci sarà un magazzino eventualmente che ci fornirà sì no non so niente di queste robe qui scuole scuole prego scuole ma anche scuole ma anche scuole dovete bloccare il prezzo comunque andremo a utilizzare questi perché sono meno invasivi ma sì, fra l'altro siamo nell'ambito dei molecolari quindi vanno in laboratorio per l'analisi ovvio che il tampone rapido sta facendo un lavoro ci sta dando uno servizio che è unico voi immaginate per un attimo di avere la possibilità di fare un click e pensare di far sparire tutti i tamponi rapidi dalla nostra vita e tornare a molecolare capite che è di difficile gestione al di là che ognuno può esprimere tutte le sue considerazioni io stamattina dicevo all'assessore se avessimo avuto i tamponi rapidi di oggi il 21 febbraio 2020 voi avete capito quanti morti meno avremmo avuto possiamo dirlo o no? perché non c'era modo di testare la nostra capacità di fare tamponi vi ricordo che a metà marzo aveva 2170 tamponi al giorno a febbraio 2020 dopo 10 mesi facevamo 72.000 tamponi al giorno cioè questa è la tragedia quindi noi sulle scuole presenteremo la prossima settimana ai cittadini dico sempre quello che è giusto dire no? cioè nel senso che si proteggano utilizzino la mascherina sentite non è che sei figo perché non ti metti la mascherina no? perché adesso sta diventando anche un aspetto ideologico no? si utilizzi la mascherina anche all'aria aperta quando c'è un assemblamento cioè non è che uno è in assemblamento tutto il giorno all'aria aperta ma se ti capita di essere in mezzo a tanta gente ti metti la mascherina tutto qua noi dobbiamo solo stare attenti a questo in questa fase accompagniamo accompagniamo abbiamo capito che ad oggi la vaccinazione ci ha permesso di restare aperti e qualcuno dice ma ma la fin fine non c'è nessun problema ma sì perché c'è il 77% di veneti che si sono vaccinati vi ripeto se ho l'80% in terapia intensiva di non vaccinati se volevo non vedere queste 39 persone in terapia intensiva bastava che si vaccinassero mi sembra logica il ragionamento quindi se oggi il veneto è aperto è grazie a chi ha fatto un sacrificio anche per la comunità questo lo possiamo dire ma senza sfide senza volontà di far casino penso che vax e no vax sono tutti i cittadini che hanno diritto di rispetto e abbiamo una sfida comune quella di uscire da questo incubo vi lascio la parola per le domande se avete domande poi parla l'assessore Lanzarin che vi parla parlerà dei pediatri di libera scelta delle vaccinazioni e poi dei numeri dei medici che non si sono vaccinati vi dà un aggiornamento ho visto una zambona alzare il dito ci sono altri colleghi per ora? c'è tutti? dice Salmano buongiorno rimanendo sul tema scuola oggi dovrebbe essere la scadenza data dal governo per ricevere dalle regioni il numero dei docenti e del personale non docente delle scuole non vaccinato però su questo è evidente l'abbiamo già scritto tutti che è difficile avere un dato preciso perché per una questione di privacy una delibera del garante non si potrebbero incrociare i dati del ministero dell'istruzione con i vostri delle vaccinazioni come la stiamo risolvendo questa cosa? avete un'idea di quanti potrebbero essere oggi? visto che tanti noi abbiamo un dato statistico che l'81% della scuola si è vaccinato ma l'81% di quanto? perché c'è la base che stabilisce come dato ufficiale Roma che è 105.000 totali mentre invece l'ufficio scolastico regionale faceva un calcolo diverso di 95.000 ma non te lo so dire cioè io so che quelli che noi abbiamo nell'anagrafe vaccinabili l'81% dei vaccinabili si è vaccinato questo è il dato che ho io non ti so dire il numero assoluto dopo magari l'assessore vi dirà dopo l'assessore vi dice e l'altra cosa il milione di test salivari opzionati precauzionalmente saranno usati nelle scuole nel mondo della disabilità ma ad esempio nelle scuole sempre all'interno del progetto delle scuole sentinella quindi non a tappeto no è impossibile immagino va bene grazie prego e allora io continuerei con Salmaso buongiorno facendo un bilancio un po' più lungo visto che lei fa sempre riferimento alla situazione di un anno fa direi che appunto facendo il bilancio rispetto all'estate scorsa possiamo dire che un anno fa c'erano molto meno persone contagiate e anche ricoverati se non ricordo male mentre quest'anno i numeri dell'epidemia continuano a tenere molto alto questo trend sia dei ricoveri che appunto però per fortuna i decessi sono finiti quindi la lezione che dobbiamo trarre è che il vaccino è stata l'unica arma utilizzata in maniera intelligente o sono cambiati anche i comportamenti di massa no guardate io ricordo un dato a memoria spero di non sbagliarlo 8 agosto 7 persone in terapia intensiva agosto 2020 agosto 2021 lo vedete da solo ne avevamo già 28-30 persone in terapia intensiva il vero tema è un altro il vero tema è rappresentato dal fatto che abbiamo messo in sicurezza la parte più debole della nostra società che sono gli anziani vi ricordate le corse per riuscire a vaccinarli tutti cioè io mi ricordo l'ansia di dire dobbiamo vaccinare solo gli anziani nessuno si faccia vaccino se non è in quella categoria e questo ci ha aiutato lo scenario di oggi Albino se non avessimo vaccinato gli anziani sarebbe apocalittico saremmo tornati indietro a quello che è accaduto a marzo 2020 aprile 2020 questa è la verità il vaccino ha funzionato poi funzionerà all'infinito non te lo so dire l'MS si è espressa sulla terza dose con perplessità io non sono un esperto quindi li ascoltiamo c'è anche un aspetto etico poi è innegabile cioè che nel mondo occidentale si fa la terza dose e i paesi in via di sviluppo perché non si deve più dire il terzo mondo mi hanno detto i paesi in via di sviluppo devono ancora vedere il vaccino con la prima siringa anche questo è un tema etico io penso che dobbiamo fare in modo che chi vuole accedere alla vaccinazione lo possa fare agevolmente che venga dall'occidente o pulento o che venga dall'ultimo paese africano ma è giusto che garantire la vaccinazione a tutti appunto e quindi lei siccome mi pare ha sempre sostenuto la necessità di programmare la terza dose in tempi rapidi rispetto alle ultime osservazioni dell'OMS che invece mi pare stia sposando la tesi dell'immunizzazione dico su scala planetaria insomma quindi ma no non fa una piega a quello che dicono però sai loro sono l'OMS io sono amministratore delegato del Veneto e difendo gli interessi dei Veneti a me inquieta pensare che ad ottobre o novembre non ci si accorga che la copertura anticorpale che già può essere un po' esile leggera nell'ultraanziano perché lo sappiamo è scritto nel bugiardino non serve fare uno studio cioè la risposta dell'anziano dell'ultraanziano al vaccino è inferiore come anticorpi a quella di un giovane quindi io continuo a dire che è fondamentale che si vada a verificare se le coperture ci sono perché noi dobbiamo tenere sempre in sicurezza gli over 60 punto il vaccino ha cambiato il corso della storia in quelle fasce di età sugli over 60 condivido tutti i temi che pone l'OMS però qua siamo in Veneto e in Veneto abbiamo necessità di fare in modo che non ne muoiano ancora ho capito l'unica fascia d'età un po' più granitente al vaccino mi pare quella dei 60 anni o sbaglio i 60 anni fanno l'87% allora la più bassa i 40 anni i 30 anni 66 prego considerazione mia però i 30 anni hanno cominciato un po' più tardi sì però i 20 anni sono al 72% ma è su scala nazionale che dicono però che mi pare i 60 anni ci sono 2 milioni e mezzo di 60 anni in Italia sì questo è vero ma non riguarda il Veneto i 60 anni da noi sono all'87% ormai per cui non ah quindi lei li ha convinti no io non ho convinto nessuno abbiamo dato un buon servizio no dico lei se una persona viene fame non avrà telefonato a casa tutti i 60 anni se una persona sta passeggiando gli viene fame se il negozio è aperto si compra un panino se il negozio è chiuso non se lo compra probabilmente poi magari gli passa anche la fame quindi noi abbiamo fatto in modo di dare questo servizio i cittadini volevano vaccinarsi certo e guardate che l'estate ha pesato molto per noi eh perché comunque l'estate è stato un momento di rilassamento di rimandare la scelta di non farsi il vaccino perché ci sono le vacanze adesso infatti adesso noi siamo mediamente sui 4.000 prenotazioni al giorno se vi interessa il dato mediamente e un giorno verrà anche l'ingegner Fattori a darvi un aggiornamento totale però insomma si sta andando avanti noi confermiamo che contiamo di arrivare almeno l'80% di veneti per ottobre vaccinati insomma ci manca un 2,4% per arrivare all'80% eh per cui insomma ce la facciamo allora lei prima ci ha dato alcuni dati che probabilmente ci illustrerà molto più nei dettagli la settimana prossima con il dottor Rosi però c'è una curiosità che arriva insomma come si spiega il fatto che i ricoveri in terapia intensiva hanno superato il picco del primo giugno anche se aumentano le persone vaccinate cioè il trend della vaccinazione è comunque costante è spiegabilissimo nel senso che il contagio passa attraverso il non distanziamento sociale la relazione sociale in estate la relazione è intensa perché comunque ci si incontra si va a pranzo ci sono momenti di aggregazione un po' dappertutto infatti il virus cosa va a colpire va a colpire i non vaccinati avendo noi ancora almeno un 23% di persone non vaccinate in Veneto il virus col principio della pallina del flipper rimbalza sui vaccinati e quando trova il non vaccinato ci entra e si insedia e a volte come in questi casi crea malattia quindi il non vaccino è più alto per questo motivo vi sentite ancora con i governatori perché mi pare che la Sicilia sia in situazione qualche non è che cosa ne pensa di quello che sta succedendo allora noi di recente non abbiamo fatto riunioni perché non sono tutti operativi come noi e però guardate il virus ha insegnato una cosa che ci impone prudenza nelle dichiarazioni oggi a me domani a te e viceversa se guardate la storia del Veneto ha avuto tre ondate tre storie diverse i nostri dirimpettai vicini di casa nelle tre ondate hanno avuto tre storie diverse quando da noi andava bene gli altri erano in sofferenza portavano via le bare con il camion dell'esercito quando loro andavano bene noi eravamo in sofferenza quando andavamo bene noi l'Emilia Romagna chiedeva invece aiuto per le terapie intensive vallo a spiegare perché accadono queste cose quindi quello che sta accadendo in Sicilia in questo momento non ve lo so dire certo è che la prevenzione fondamentale è quella dell'uso della mascherina e di evitare gli assembramenti questo è fondamentale vi ricordo sempre che i nostri medici in ospedale che lavorano con i pazienti positivi si infettano di meno dei cittadini quindi un motivo ci sarà qual è l'unica differenza che si proteggono Albino a posto ok Giacomozza avanzano allora Presidente due precisazioni una domanda prima precisazione quando parlava del molecolare salivare allora i tempi quali sono ovviamente non è rapido no alle 24 ore 24 ore in condizioni di normalità in 24 ore si dà l'esito ovvio che assieme ai salivari molecolari non verranno abbandonati i tamponi di screening quelli rapidi ovvio questo si cercherà di fare un mix ma insomma la grande novità sono i salivari grazie poi 4.000 prenotazioni al giorno di media e gli accessi liberi a un dato oggi no ma ve lo portiamo lunedì grazie dovete scusarmi ma non ho ve lo portiamo lunedì il dato sì ma non c'è problema facciamo lunedì così vediamo un po' di storico anche dal 13 di agosto poi insisto sempre sul modello la curva lei diceva da giugno è calata e poi ad agosto di nuovo è ristallita terapia intensiva prospettive cosa dice il modello ad oggi non dice niente dobbiamo fare un incontro in settimana per vedere di capire se è stato calibrato bene considerate che quello dell'istituto superiore di sanità per noi non funziona se l'avessimo seguito avremmo rischiato di spendere una montagna di soldi per cose che non sono mai accadute nel senso che se tu hai una previsione di avere un sacco di infettati magari i programmi in magazzini per i dispositivi test eccetera prevedeva adesso non mi ricordo i numeri ma prevedeva sicuramente un'infezione molto più importante anche dal punto di vista ospedaliero cosa che non è accaduta e prevedeva anche un numero di contagiati più alto beh sentite le belle ricordate tutte le dichiarazioni di centinaia di morti al giorno con queste aperture però non sono ci sono stati morti a giugno vi ricordate che c'erano molti che dicevano avremo centinaia di morti al giorno non è accaduto cioè non è facile Banza buongiorno presidente buongiorno ritorno su questo tema del picco però tempo fa aveva detto per metà agosto fin agosto dovremmo superare essere al giro di boa restiamo fiduciosi Alda restiamo fiduciosi perché comunque abbiamo già alle spalle due mesi di variante delta abbiamo avuto un buon contenimento ovvio che adesso la partita soprattutto nell'area critica la stiamo gestendo con i non vaccinati il dato come si dice in vento strucca 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 arriviamo al coso l'area non critica si sono 240 ospedalizzati ma insomma su 11.000 posti letto non è che ci stravolge la vita abbiamo le terapie del malattia infettiva un po' sotto pressione però insomma la gestiamo ovvio che le terapie intensive ci preoccupano perché non perché siano tanti 48 per carità noi ne vorremmo zero non perché siano un numero ma perché sommate 353 non covid comincia a diventare pesante la storia delle terapie intensive vi ricordo che siamo quindi siamo a 401 se non ho fatto male il conto noi consideravamo già una roba da collasso 500 ve la ricordate a dicembre 500 covid ma avevamo ridotto tirato il freno a mano da paura sugli altri perché eravamo arrivati a 200 anche siamo andati a 180 quindi terapie intensive vanno monitorate con attenzione dopo è vero per questo abbiamo voluto portare il dottor Rosi lunedì perché vi dirà anche qual è la presa in carico nelle terapie intensive cioè che paziente entra in terapia intensiva e allora ve lo viene a dire il dottor Rosi che ha le schede per ogni paziente e vi hanno spaccato anche delle patologie e del quadro clinico di ogni paziente comunque sono aumentati i dati perché voglio dire terapia intensiva è il 4% e area medica 3 eravamo al 2 sono raddoppiati in una settimana ma infatti noi non siamo qui proprio a dirlo vi ho portato un grafico io spero che sia dopo glielo mandiamo presidente lo rifaccio vedere anche per i cittadini che lo guardano da casa insomma estrema sinistra c'è il grafico che parte dal primo di giugno l'estrema destra è il grafico che arriva sopra il livello del primo di giugno ad oggi questo giornato proprio stamattina penso che non abbia bisogno di commenti lo dico quelli che negano anche l'evidenza invece per quanto riguarda gli anziani è confermato che voi farete comunque lo studio sulla risposta antiportale avete già qualche dettaglio in più c'è la dottoressa russo che si sta confrontando anche con il ministero su questo e spero ci siano degli sviluppi anche a breve perché ne abbiamo parlato anche venerdì di questo e potremmo allora c'è un principio secondo il quale si dice che non è sufficiente valutare solo questo però è altrettanto vero che se non hai gli anticorpi vuol dire che qualcosa non funziona quindi siccome ci siamo ascoltati con l'acqua calda adesso abbiamo paura anche di quella fredda quindi noi siamo per andare avanti e comunque fare un controllo sarà uno studio poi a perdere non ve lo so dire magari approfittando di altri prelievi del sangue che si fanno nelle case di riposo nei centri come diceva l'assessore ma comunque sì bene grazie a questo punto vi passo la parola e grazie per essere venuti ci vediamo lunedì diamo la parola all'assessore Lanzari intervieni tu facciamo subito domande assessore come volete come volete ragazzi prima diamo la parola allora facciamo così faccio io due do io faccio io due considerazioni do due dati e poi eventualmente mi fate domande allora martedì ho incontrato i pediatri di libera scelta quindi abbiamo fatto un incontro con i pediatri di libera scelta martedì dopo giunta per un po' insomma riattivare i percorsi che erano già iniziati voi sapete che c'è un accordo a monte insomma di un po' di mesi fa che era insomma poi approvato a livello nazionale e declinato a livello regionale come quello per i medici medicina generale per l'effettuazione della vaccinazione o all'interno dei propri ambulatori oppure nei nostri centri vaccinali quindi abbiamo fatto il punto della situazione rispetto alle adesioni che c'erano e ci sono a quel protocollo e anche alla necessità di un confronto con loro che loro entrino un po' più ancora maggiormente insomma proprio in previsione dell'anno scolastico dell'anno scolastico eccetera ancora di più insomma in questa partita soprattutto per la fascia 12-15 insomma perché poi è la fascia quella che compete un po' di più ai medici ai pediatri ai PLS so che le singole aziende hanno poi di conseguenza poi abbiamo dato indicazioni perché poi il giorno dopo abbiamo fatto incontro con i direttori generali hanno dato abbiamo dato indicazioni di convocare quindi i tavoli con i pediatri di vibra scelta aziendali e quindi di vedere insomma di incentivare e motivare maggiormente i numeri che noi abbiamo oggi è che abbiamo un'adesione rispetto ai 530 pediatri di vibra scelta del 50% di pediatri che fanno vaccinazione sui 530 pediatri di vibra scelta che ci sono in Veneto oggi già il 50% quindi la metà hanno aderito a quel protocollo e hanno fatto stanno facendo vaccinazione le aziende sanitarie stanno cercando di raggiungere l'altro 50% in modo da coinvolgerli con loro si è anche detto che sicuramente un intervento da parte sua di loro con la chiamata attiva nel senso che eventualmente tramite i loro strumenti quindi chiamare insomma le famiglie dei loro assistiti spiegare eccetera probabilmente sapendo che la vaccinazione è comunque una questione molto delicata molto personale anche insomma sicuramente il proprio medico in questo caso il pediatra conosce di più la situazione eccetera può essere utile quindi so che loro si stanno attivando anche con una chiamata attiva rispetto ai loro assistiti quindi 12-16 sarebbe la fascia però probabilmente al pediatra insomma segue soprattutto quella fascia poi insomma c'è il medico di medicina generale quindi noi ci aspettiamo sulla fascia 12-15 che ci sia insomma ecco e appena abbiamo dati vi informiamo insomma ecco però abbiamo diciamo così iniziato un percorso di questo tipo seconda cosa abbiamo l'aggiornamento rispetto ai sanitari non vaccinati quindi il numero cala di poco ma continua insomma a calare questo è positivo quindi abbiamo un totale di 16.290 290 personale sanitario di tutte le di tutta la specie quindi sanitario regionale sanità della sanità privata delle case di riposo sapete che qui dentro ci sono anche i farmacisti tutto complessivo cioè quelli che in base al famoso articolo 44 hanno l'obbligo vaccinale di questi 4.819 sono il personale sanitario nostro quindi vuol dire quelli che lavorano negli ospedali o nel territorio quindi pediatri o medici medicina generale che ad oggi a noi risultano non vaccinati 4819 il dato sulle sospensioni che sono state effettuate da inizio ad oggi in tutte le aziende sanitarie complessivo è di 207 sospensioni e io vi dico solo le sospensioni dei nostri quindi di quei 4 8 e 19 che oggi non sono vaccinati che sono quelli che rimangono da che non hanno quindi avuto la vaccinazione ne sono già stati sospesi 207 e sono tra os infermieri medici possono essere i medici che lavorano in ospedale come il medico di famiglia come è successo a Padova piuttosto che e sono questi questi sono i dati insomma aggiornati ultima cosa che vi dico e poi se ci sono domande rispondo è rispetto alle scuole e quindi alla richiesta che abbiamo ricevuto ieri sera e che dobbiamo rispondere entro oggi da parte del commissario Figliuolo rispetto ai numeri quindi la certificazione dei numeri del personale sanitario del personale scolastico non vaccinato io vi do i numeri che ci sono stati forniti e quindi insomma poi noi stiamo facendo i controlli per capire bene però insomma vi do questi numeri che ci dicono che su 107.469 personale scolastico tutto che vuol dire 469 che vuol dire tutto quindi vuol dire sia gli insegnanti ma anche il personale ATA comunque il personale insomma di supporto oggi risultano vaccinati 92.380 pari all'85,96% quindi quasi l'86% abbiamo il dato anche ad oggi quindi certificato quello quelli che hanno detto non ci vacciniamo che sono 189 abbiamo questo dato 189 hanno detto non ci vacciniamo hanno già dato quindi complessivamente rispetto ai 107 insomma questi sono i due dati che noi abbiamo estrapolato da quanto ci è stato fornito dal commissario dalla struttura commissariale stiamo cercando di incrociare anche tutti gli altri dati in modo da però insomma se i dati sono questi voi capite che è una copertura quasi dell'86 perché 85,96% non è male insomma e chiaramente si cercherà adesso da qua all'inizio dell'anno di cercare insomma anche con la dottoressa Palumbo si sta discutendo di convincere o comunque insomma più che convincere insomma proporre la vaccinazione insomma poi poi vedremo lì si apre tutta una partita su cui c'è una discussione un euro che ci sarà anche una discussione nazionale poi la faremo anche regionale perché anche qui con la privacy le sospensioni cioè i nominativi insomma ci dovranno dare le indicazioni come fornire i nominativi perché poi è il dirigente che dovrebbe sospenderli no però non abbiamo ancora nulla due cose ma poi la settimana prossima probabilmente lo presentiamo sul discorso del progetto Sentinelle che diceva il presidente sono in corso stamattina ci sarà un'altra lunedì un'altra riunione lunedì e poi c'è una riunione mercoledì proprio su questo progetto a livello nazionale con i gruppi di lavoro tecnici proprio per arrivare alla definizione di questo progetto e di poter partire con l'inizio dell'anno scolastico il progetto appunto prevede come abbiamo fatto noi insomma le cosiddette scuole Sentinella soprattutto per i soggetti che non saranno vaccinati quindi scuole inferiori e il commissario insomma fornirà quindi la struttura commissariale fornirà i tamponi salivari molecolari per l'effettuazione insomma di questo progetto però oggi abbiamo solo notizie di questo tipo sono in corso questi incontri tecnici quindi con le prevenzioni con la commissione salute poi ci sarà un incontro anche con la struttura commissariale per definire tutti i dettagli e poi ce ne abbiamo insomma ve li forniremo domande Alda Albino c'eri tu Alda no ho detto prima il signore niente ah ho capito no allora beh non è che le chiediamo di fare l'indovina assessore ma parlando io sì ma tu sì no facendo un ragionamento puramente statistico legato ai numeri allora vediamo di capirci un attimo se ci sono 4819 dipendenti della sanità pubblica che non si sono vaccinati mi pare su quanti 60.000 sono 56.000 mi sembra siamo attorno all'8% ecco come dai ecco vuoto per pieno invece nella scuola siamo a 189 dichiarati fino a questo momento su 107.000 quindi circa l'1% voglio dire che paradossalmente c'è più sensibilità e predisposizione alla vaccinazione nel mondo della scuola rispetto appunto agli operatori sanitari e questo sembra quantomeno logico nel senso che se uno lavora nell'ospedale dovrebbe avere contezza e una sensibilità decisamente superiore però io le chiedo la domanda che le faccio è questa cioè qui il governo ha deciso che dopo 5 giorni se un insegnante appunto continua a non ci sono i problemi di privacy però viene sospeso e viene sostituito addirittura da un supplente mentre mi pare che per quanto riguarda l'iter dell'accertamento della sospensione personale sanitario ci sia una trafila infinita burocratica ce la può raccontare perché se dopo quasi cosa sono 5, 6, 7 mesi siamo ad aprile con l'introduzione della legge 44 ne sono stati spesi solo 200 su quasi 20.000 200 su 4.819 cioè mi pare che lì i problemi siano seri perché l'accertamento non ho la minima idea perché non so dove deriva da un punto di vista appunto normativo per quanto riguarda appunto la scuola insomma che caratteristiche sospensioni e quant'altro io so che quella dei sanitari è una procedura molto articolata che perché comunque devono essere coinvolti gli ordini poi noi facciamo tutte le verifiche poi comunque dobbiamo ritrasmettere gli ordini poi sono gli ordini che sospendono poi ci sono le varie tipologie di sanitari quindi quelli che appartengono al mondo cioè sono dipendenti della regione quelli che sono dell'istituto privato quelli che sono delle strutture extra no extra regionali extra ospedaliere tipo le case di riposo piuttosto che le strutture per disabili eccetera quindi comunque è una procedura a più riprese e con più step quella della scuola non la conoscono in dettaglio quindi non posso rispondere ecco ma la procedura della sanità secondo lei è veloce rapida oppure è così talmente compensa sotto il profilo burocratico che diventa di fatto inapplicabile no no la stiamo applicando è chiaro e vedo che mi sembra che ho sentito anche i dati delle altre regioni sono come noi perché anzi sento 100 sospensioni non mi sembra che ci siano regioni che siano più avanti quindi è chiaro che ci sono tutte queste verifiche da effettuare e quindi si sta applicando il discorso della privacy ha gravato molto e quindi ha ritardato molto può essere che adesso che c'è tutta l'esperienza per quanto riguarda il mondo sanitario sia più semplice per quanto riguarda il mondo scolastico ma mi fermo qui si si va bene bene signori ha stato bellissimo grazie arrivederci